Pana Pesca, l'azienda specializzata in taglio, confezionamento e commercializzazione dei prodotti itici, che ha stabilimenti in Italia e anche all'estero e che a massa ecozzile in Valdinievole impegnava 156 lavoratori, mette in mobilità 39 persone, mentre altre 16 saranno licenziati a novembre al termine della cassa integrazione straordinaria. I lavoratori impegnati nel magazzino della sede di Traversagna guidati dai sindacati vogliono la riapertura delle trattative con l'azienda e proclamano un pacchetto di 50 ore di sciopero al grido di ci avete lasciato solo le lische. Abbiamo fatto un solo incontro per il momento dove l'azienda si è chiusa a Riccio e ha detto che non ci sono margini trattativa. Il prossimo incontro lo avremo il 30 di aprile, questo già vi fa pensare che siamo a pochi giorni dalla scadenza dei termini di procedura dei primi 45 giorni per poi passare direttamente in provincia per ulteriori 30 giorni ancora di trattative. C'è stato un momento credo verso la fine dell'estate scorsa in cui un'altra lotta perché l'azienda dichiarava 28 esuberi, oggi sono 39. Allora 28 esuberi è stata aperta la procedura esattamente a settembre 2013, di cui 16 sono tutt'oggi in cassa integrazione straordinaria, altri 12 sono stati riassorbiti per un affitto di ramo d'azienda da un'azienda che lavora sempre nel reparto produzione perché quello era tutto l'intero reparto produzione. Sì? L'idea dell'azienda è quella di costituire varie cooperative autonome? L'idea dell'azienda è di esternalizzare questi reparti, poi o cooperative o società esterne, quello ancora non lo sappiamo. La cosa sicura che posso dire è che in base alla procedura precedente, quella che si parlava, è aperta in settembre 2013, è stata costituita un'azienda, un'azienda, un'SRL, il primo gennaio 2014, dove sono confluiti i 12 lavoratori che si parlava precedentemente. Quindi se sarà cooperativa o società, questo ancora non abbiamo sicurezza di niente. Comunque indipendente da Panapesca? Certo, indipendente da Panapesca. Che avrà comunque quel marchio? Che lavorerà per Panapesca. Esternalizzare il lavoro, con quali effetti? Oddio, i gamberi argentina, per dire, vengono mandati all'Argentina, in Thailandia, sgusciati e poi portati qua per commercializzarli. Voglio dire, cosa che prima veniva fatta qua? In Thailandia si sa benissimo che i costi non sono quelli che sono in Italia. Tutto questo provoca anche un abbattimento un po' del lavoro, di quello che poteva essere prima qui il lavoro a oggi. La crisi che sta vivendo questa azienda è perché non ci sono commesse? Ma, sentire l'ordine che non ci sono commesse. Però mi sembra dal movimento dei cami che sono qui davanti che le commesse ci sono. Abbiamo contattato ripetutamente l'ispettorato del lavoro che però ancora si nega. Ora ha detto la dirigente che dice di essere lì da due giorni, che gli si rimandi tutta la documentazione per e-mail e si attiva. Però, fatto sta che è dalla scorsa settimana che li stiamo contattando e dalla scorsa settimana che non ci fanno vivi. Grazie.